Ora questa iniziativa qua è un film di cinema indipendente che praticamente stiamo girando qua in Valsassina, maggior parte qua, poi abbiamo girato anche a Lecco, a Erba, in un supermercato, è un film che si tratta di una storia drammatica e vediamo come esce quella. Ci puoi raccontare un po' la trama più o meno? La trama è la trama di un carcerato che proietta come se fosse successo in questa storia che si tratta nel film, ma in realtà non è mai successa, è semplicemente una sua proiezione che lui dal carcere pensa come fossero andate le cose se lui non faceva quel sbaglio che ha fatto, perché lui ha ammazzato una persona e si è compirato dalla strada. Come mai avete scelto la Valsassina? La Valsassina perché è un posto bello, poi il tempo, le montagne, io poi vivo qua in Valsassina e sono innamorato della Valsassina, quindi appunto ho scelto. Chi è che sei tu, ti puoi presentare? Io sono Jetmir Pieternikai, vengo dall'Albania, sono 12 anni che vivo in Italia e sono regista.